Buonasera a tutti amici di YouTube, benvenuti sul mio canale tifosi rossoneri e rivali. Ragazzi, ragazzi, sto leggendo con grande insistenza tra tantissimi giornali e fonti comunque abbastanza concrete che il Milan va seriamente su Turam. Sono molto d'accordo, un bel profilo, un buon giocatore, ci sta, serve anche altro, ma voglio ricordare a tutti voi che Turam non è una prima punta. Se qualcuno pensa che Turam viene preso per sostituire e dare fiato a Giroud, siamo sulla strada sbagliata e vi spiego il perché. Turam anche in Francia, come potete vedere nella nazionale, non solo, anche nel proprio club, gioca come seconda punta, quindi non facciamo confusione. Turam ok, ma non va a sostituire Oliviero. Caro, Gerry, Cardinale, Moncada e Furlani. Quindi vediamo di prendere anche una prima punta. Turam ok, la vedo difficile, braccio di ferro col Paris lo vedo molto complicato. Poi mi auguro di sbagliarmi e Turam viene al Milan. Ripeto, come profilo va bene, ma non può andare a sostituire Oliviero, campione vero. Che sia ben chiaro in quella cazzo di testa che avete. Ok ragazzi? Ciao a tutti, un abbraccio da Gerry, sempre e forza, vecchio cuore, Rosso Nero. Pioli, sei nel centro del progetto, il mercato dipende da te, quest'anno ne rispondi te. Quest'anno vediamo di che pasta è fatto Stefano Pioli. Speriamo che non è della pasta che io penso. Speriamo che non è della pasta che io penso.